e completo riversarsi nel suo divin figlio. Ci ricordiamo a riguardo la parola del libro di Abba Kuk 3 et exultabo in Deo Jesumeo. In questo modo possiamo vedere l'esultazione della Madonna verso il suo figlio come una eco lontana nel creato della processione dal Padre Eterno verso il suo figlio nel seno stesso della Santissima Trinità. Sant'Agostino osserva che questi due primi versetti del Magnificat esprimono il nostro fine ultimo in Paradiso, glorificare la maestà di Dio e godere della sua infinita bontà. Poiché ci sono due cose che gli spiriti degli angeli e dei santi in quella fonte di bene bevono nell'eterna contemplazione. L'incomprensibile maestà di Dio e la sua ineffabile bontà. L'una che produce un sacro timore, l'altra l'amore. Venerano Dio per la sua maestà. Lo amano per la sua bontà. Amen. Deo grazias. Grazie a tutti.